Eccoci di nuovo in studio, seconda parte di Angoli, con me e con noi c'è Giorgio Albonico, organizzatore del premio internazionale di letteratura della città di Como. Buonasera. Buonasera a lei, grazie per l'invito. Grazie a lei di essere venuto, in realtà è qui per raccontarci di un festival che ha visto la sua prima inizione l'anno scorso, il 2014 e si può dire che è stato un vero e proprio successo, perché diamo anche qualche numero a questa prima edizione del festival internazionale di letteratura, sono arrivate oltre 1.400 domande, oltre 1.400 sono stati partecipanti, peraltro non solo italiani ma anche spagnoli, tedeschi, addirittura americani. Sì, in realtà sono circa 1.250 e sono arrivate un po' da tutta Europa e due dalla Florida anche. Capire il motivo non lo saprei, perché come prima edizione veramente c'è stato un riscontro veramente che io non immaginavo. Quest'anno in seconda edizione avevo un po' di timore, perché in genere riproporsi diventa sempre più difficile, però vedo che se i numeri sono questi viaggiamo con i numeri dell'anno scorso più o meno. Peraltro so che ci sono delle novità, perché fino all'anno scorso avevate due sezioni, una dedicata alla poesia e l'altra alla narrativa, invece quest'anno avete aggiunto altre categorie. Quest'anno abbiamo aggiunto la saggistica che l'anno scorso non c'era, limitandola però a dei temi specifici per non essere subissati da saggi. E poi abbiamo aggiunto una sezione che curerà Carlo Pozzoni sulla fotografia, quando l'immagine racconta, cioè una storia raccontata attraverso fino a dieci immagini, perché io credo che comunque oggi viviamo in un mondo dove l'immagine, la trasmissione attraverso immagine sia importante, quasi fondamentale. E quindi abbiamo aggiunto questa sezione a quelle già esistenti. Credo che abbia fatto bene, perché in realtà è proprio uno strumento essenziale della comunicazione, anche trasmettere delle visioni per istantanee. Poi adesso con gli smartphone veramente si riesce a intrappolare qualsiasi tipo di realtà. E poi sono contento del fatto che molte scuole stiano partecipando a questa sezione di fotografia, che mi fa piacere, perché il fatto che partecipino alle scuole, anche abbastanza importanti, è un fatto che gratifica. Peraltro ricordiamo anche le scadenze e il regolamento, perché si è ancora in tempo a iscriversi al concorso. Sì, in realtà il concorso si chiude il 30 aprile e poi c'è sempre qualche ritardatario, perché è ovvio che quando c'è una scadenza c'è anche ritardo sempre. Comunque al 30 aprile, sì. Poi la premiazione sarà il 13 giugno a Villa Olmo. Io sono particolarmente contento per il fatto che il Comune di Como mi ha concesso l'uso gratuito di Villa Olmo, dimostrando una certa sensibilità di fronte a queste manifestazioni. I tempi sono ristretti, ma cercheremo di fare del nostro meglio per arrivare alla fine come poi è successo l'anno scorso. Ma intanto state già raccogliendo, no? Sono già arrivate diverse iscrizioni, immagino. Le iscrizioni sono in linea con quelle dell'anno scorso. Adesso evito di fare numeri, però ci avviciniamo al migliaio. E comunque i lettori che io ho raggruppato, unito, stanno leggendo da gennaio, per cui non è che cominciamo adesso a leggere perché sarebbe impossibile. Io accanto ai giurati ho predisposto una giuria popolare di una ventina di persone che leggono a tutto spiano, chi più chi meno comunque. E apprezzano? Si danno dalle anticipazioni oppure tutto? Certo, le anticipazioni me le devono dare perché devono esprimere un voto. Alcuni apprezzano, altri un po' meno, perché è chiaro che nei concorsi ci sono tanti testi, alcuni più validi, altri meno validi. E poi voglio dire una cosa, quando si legge un testo, il giudizio è sempre soggettivo. Per uno magari è meraviglioso, per l'altro è un po' meno. Quindi anche chi non arriva alla fine deve pensare a questo. E certo. Peraltro so che avete predisposto dei premi in varie sfumature. Per i primi classificati c'è un certo tipo di ricompensa, di premiazione, per gli altri poi comunque un riconoscimento. Altro aspetto che mi rende contento è il fatto che quest'anno abbiamo avuto più credito, perché siamo in seconda edizione, e quindi alcuni alberghi anche importanti di Como e del Lago ci offrono la possibilità di offrire agli autori meritevoli un soggiorno a premio. E mi riferisco al Metropole Suisse, all'Imperialino, al Terminus e allo Sheraton, che offrono un soggiorno per due persone, da qui ai prossimi sei mesi, per coloro che verranno scelti dalla giuria. E questo credo sia un aspetto importante, sia perché hanno dimostrato anche loro una certa sensibilità di fronte a questi eventi, sia perché aumentano quello che per me è una cosa fondamentale, che è il turismo culturale, cioè la gente che si muove anche per una questione culturale, per vedere manifestazioni culturali, per queste cose qui. Certo. Quindi il turismo culturale in una città come Como, che a mio avviso entro breve diventerà uno dei più importanti turisticamente parlando, credo che abbia una sua rilevanza. Senta, ma è possibile tracciare un po' così, a un anno di distanza, un bilancio dalla passata edizione? Ha riscontrato per caso, questa è una curiosità mia, mi dica anzi, mi corregga se sbaglio, è possibile rilevare una certa tendenza tematica, fare un po' dei bilanci anche percentuali? Si scrive ancora di amore, si scrive magari di crisi? Guardi, io ritengo che chi scrive, scrive in maniera autobiografica. Flaubert diceva Madame Bovary, c'è moi, cioè tutti scrivono e parlano un po' di se stessi. Io credo che questa sia una limitazione, perché secondo me scrivere è un modo per vivere un'altra vita, per vivere più vite e ridursi a parlare a se stessi diventa un po' limitante. Io non lo amo molto, però il 70-80% delle persone che scrivono riconducono la loro scrittura a delle loro esperienze personali, a delle interiorizzazioni loro. Eh certo. Parlano a se stessi, di quello che hanno vissuto, di tutte queste cose qui, comunque leggermente autobiografiche. sempre velato nel discorso c'è una parte di loro. Forse perché riesce più facile scrivere di quello che si conosce, di questa esperienza. Sì, riesce più facile, ma ripeto, è limitativo, perché lo scrivere è quello di andare in paesaggi che non si sono mai visti. Quindi vedere il mondo attraverso gli occhi interiori, perché Salgari o Salgari che si vuol dire non è mai stato in Malesia, però lui l'ha descritta meglio di chiunque altro. E il secondo aspetto è quello di mettersi nella vita di altre persone, inventare personaggi, inventare altre vite. Quindi parlare di se stessi, a mio avviso, è limitativo. E nei libri che io sto, diciamo così, ricevendo, la maggior parte sono relativi a un discorso interiore rivolto a se stesso. Ha visto già anche qualche aforisma, che questa è una parte nuova, introdotta quest'anno, lo ricordiamo, una nuova sezione del concorso, che peraltro in realtà ha una storia ormai veramente millenaria, come esperienza di scrittura di aforismi nel mondo, nella nostra cultura, si è sempre cercato di sintetizzare in una massima un modo di fare. Sì, gli aforismi rientrano in una categoria che io ho chiamato i luminosi, perché credo che sia come un flash che si accende nel cervello di chi li scrive, è proprio una cosa velocissima e istantanea. No, ne stanno arrivando parecchi, quindi sono contento anche per questo. Aforismi e epigrammi ne arrivano. Poi è difficile, secondo me è molto difficile scrivere un aforisma, perché in pochissimo bisogna concentrare tutti dei concetti che poi devono far pensare. Molto difficile. Mi ricordo che Montanelli quando scriveva il Controcorrente diceva che era quanto di più difficile lui doveva scrivere, perché concentrare in tre righe tutto un concetto veramente diventa difficile. Qualche parola anche sulla parte della poesia? Beh, la poesia in Italia tutti sono poeti, arrivano tantissime poesie inedite, anche perché ritengo che scrivere poesia bene sia difficilissimo, invece scrivere poesia così, in qualche modo, sia abbastanza semplice, basta concentrarsi un attimo. Poi in realtà chi legge poesia, io non leggo poesia, mi dice che la poesia deve avere una sua musicalità, un suo quid interno che non si ritrova ovunque. Va bene. Senta Giorgio, il tempo a nostra disposizione è quasi finito, però ricorderei anche la scadenza. Il 30 aprile c'è tempo di presentare i nostri documenti in formato elettronico, vengono restituiti, ci dia qualche indicazione più pratica. Beh, chi partecipa spedisce una casella postale o il documento cartaceo oppure può anche spedire a una casella e-mail che è scritta sul regolamento o sul nostro sito. Quindi le difficoltà non credo ci siano, anche se qualcuno magari trova difficoltà e telefona per avere delucidazioni, ma questo credo che sia normale in qualsiasi concorso. Infatti noi stiamo anche vedendo il sito di riferimento per avere altre e ulteriori informazioni, premiocittadicomo.it. Giorgio, io la ringrazio Matti. Volevo dire solo due cose ancora per chiudere, che quest'anno poi la premiazione vedrà le opere migliori presentate in una libreria di Como, la UBIC, e poi vedrà i 12 racconti migliori pubblicati sulla rivista Como. Benissimo, un ulteriore incentivo. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a lei. Vi lascio alla rubrica Il lavoro che vorrei e a tutte le notizie di ETG. Grazie.